Speriamo che finita la campagna elettorale ci siano più impegni e meno promesse, quindi noi siamo pronti qui ad avere un rapporto molto forte e molto costruttivo con il governo Renzi. Uno dei passaggi fondamentali sembra essere su Bagnoli, sembra che sia proprio al centro del cronoprogramma di Renzi. Anche lì la palla sta a mano a Renzi, perché noi insieme alla Regione abbiamo trasmesso l'accordo, però vedrà già da un po'. Sento che lui parla di Bagnoli, le carte però stanno al governo, aspettiamo che alzino una cornetta del telefono, ci chiami e noi siamo pronti per firmare. E soprattutto il governo deve mettere le risorse per la bonifica come si è impegnato a fare, perché Bagnoli è un sito di interesse nazionale, quindi non è tanto un tema da campagna elettorale, è un tema da mettere penna su carta, il governo ha tutti gli strumenti per mettere penna su carta.